ciao a tutti i salmoni e bentornati nel nostro canale allora scegliamo il capitano dici tu porco dici io lo sapevo lo sapevo che usciva Messi toti lo sapevo che usciva messi o Ronaldo toti lo sapevo mannaggia è sicuramente miller un attimo mezzano diceva mighitariano che mi fa cagare il cazzo va bene va bene intanto ma sai che c'è sempre partiamo con le riserve sono vasto della merda mamma mai tu guarda che cazzo di gioco di quest'anno si che ha questo che non da la idea amore porca manina non è possibile non è possibile cazzo il più brutto e lo lo sapevo lo sapevo lo sapevo mannaggia la merda mamma e tu guarda di nuovo Sanchez il più brutto mi sembra Luis che scuola di merda amore ah ah beh qua proprio bellissimo guarda guarda il premio no bel allora l'ha scelto lei eh eh tu ce l'hai con le mani ma la faccio io no no ma tu guarda un togs un Kimmich il terzo il terzo il terzo brutto lasciate un like per il mio funerale dai ma tu guarda tu secondo stavolta stavolta che cazzo dico ma tu guarda i amore al contante ma potevi uscire quando ho a scegliere i più belli che ha scelto i amore ma vaffanculo va dimmi questo si sparse è un'altra merda c'è la notizia Adriano dai oh io non lo so ma l'ho fatta apposta bello ma adesso si ma sono vedi che è già pure bruttino quello è peggio però io ci provo io ci provo a fare un ucigionato di buon ma non funziona questo questo non c'è i capelli davanti in cosa te ne rendi conto mamma l'ultimo quindi ero sì ma che schifo che schifo una soddisfazione non c'è non c'è ma che schifo è russo va bene io mamma guarda l'italiano con le brutto io sempre ho fatto che lo so bollino sì ma ce ne sono due che fanno ancora più schifo cioè cioè il terzo e il quarto sull'idecina ma dai il terzo mamma mia non ti sei può guardare la coppia attenzione vai amore brutti ma fai vedere una foto di Lopez? prendi il telefono non hai da buttare via su no assolutamente allora hanno visto delle foto di Lopez su internet e hanno deciso che non è brutto questo è velocizzato velocizzato non posso fare i video in sette ore ok attacco attacco sta vedendo da me c'è Ronaldo porco due non è possibile ma quando faccio i più belli dei ma manco per il cazzo mi viene togs eh più brutto fesso fesso sanè eh sanè fortuna fortuna che pure forte andiamo attaccando destro ma tu guarda tu ci fai figli di eh vabbè 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 però guarda te vallicia sei brutto alleluia vabbè vabbè no 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 confermo modric si fortuna fortuna che sei brutto mamma mia modric 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 guarda sorridi a un topo grazie modrici di essere brutto grazie grazie non è che è più brutto mamma mia fortuna fortuna e brutto mamma ecco in un altro grado brutto ecco la cicci ecco la cicci ecco la cicci a me la fai intesa stanno la stessa squadra forse è il quarto questo si ok la parte tocca a mamma madonna l'ultimo Luca ma questo martinez si alleluia 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 mamma martinez l'ultimo dai 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 oh con due t'ha passato la patata bollente che è allora si speriamo un po' sta cazzo di squadra poi poi dobbiamo vedere sistemando tutto quanto da quanto è il draft va bene l'ultima l'ultima cosa da fare perché effettivamente non già non so più puoi mettergli le mani cioè gli strozzerei solo alcuni cioè gli strozzerei solo alcuni l'ultima palla bollente cioè scegli l'allenatore il più brutto mamma mamma secondo te il più brutto qual è il più brutto è il secondo? nooo nooo io speravo un zidane va bene da quanto è il draft guarda guarda tre bestie 136 mi pare che siamo andati meglio l'altra volta eh grazie grazie grazie